Chi fosse poi il compositore o il copista copiò ed è una melodia che viene dalla tradizione irlandese ma che è stata adottata invece dalla tradizione latina e dalla nostra cristianità. E allora tutti insieme l'Orchestra Sinfonica del Benito, il tenore Cristiana Ricci, il maestro Romani a dirigere e tutti insieme canteremo ad Este Fidelis. Aves, certi, l'es, 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 l'es. Aves, l'es, 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 l'es. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.